te sei sicuro? zero non vuoi fare niente? ci sono i pacchi da aprire? no non frega niente li apro io? zero non c'ho proprio voglia ragazzi che dire oggi siamo qua perché c'è una specie di evento in teoria c'è il drop aumentato per i per gli uber per i cosi c'è lo sconto 750 per 11 tentativi abbiamo un sacco di scatolette del gatto sto farmando come non so cosa in questo periodo perché purtroppo dobbiamo fare un po' guadagnare la voglia anche al comandante di tornare a giocare ci torni a giocare purtroppo sta roba della quarantena lo sta un po' demolendo anche a me sinceramente però io almeno faccio qualcosa spero di trovare almeno un qualcosa di utile ti prego sai no c'è il drop aumentato dei cosi no niente oh qualcuno che abbiamo già e invece no Uesugi Kenshin ho trovato Uesugi che sta guidando una moto perché niente non mi fa piacere comunque vedere sto coso caci caci ok caci caci in realtà non so neanche se mi serviva qualcosa andiamo avanti proviamo con 11 biglietti che abbiamo da parte sinceramente non mi aspetto niente di chi avevamo trovato già molto la scorsa volta anche se in teoria qualcosa magari da usare contro gli alieni la butto lì eh che poi in realtà io non riesco neanche a capire che cosa ci manca perché penso che abbiamo delle truppe abbastanza buone da utilizzare contro gli alieni però non so perché non riesce a vincere non lo so oh un altro questo l'abbiamo già visto multi bomber beh che culo uno che vangia incredibile e questo è l'ultimo niente aumenta l'attacco il 100% del 9 contro i black ok potrebbe essere in realtà anche abbastanza inutile sinceramente o almeno per ora io adesso ho bisogno degli alieni per carità potrei evolvere tipo lo spadaccino che lui è utile contro i black e gli aliens che non sarebbe male come cosa abbiamo tutti i frutti quindi la sua evoluzione aumenta l'attacco il range e la difesa non so se serve purtroppo contro il behemoth o quel robo lì come cacchio si chiama però per quello che tanto possiamo fare a questo punto io lo evolverei anche il problema è sempre quello carino e niente questo era tutto ciò che potevamo fare purtroppo ragazzi finché finché il comandante non si vuole svegliare non vuole fare robe non posso farci niente ragazzi siamo tornati su battle cats c'è un evento in corso in realtà è tipo iniziato un paio di giorni fa e me ne sono accorto adesso anche perché in sti giorni più che altro sto farmando sul sul robo degli alieni perché ho bisogno dei tesori per poter battere poi il il coso finale purtroppo il comandante ancora non lo vuole fare quindi oggi ci sono io oggi sono oggi oggi comando io badaglia di gatti sono cinque livelli nuovi io voglio vedere quanto quanto è difficile dopo uno stage you must wait a short time devi aspettare per riprovare in che senso calcolando che non conosco il gioco con cui stanno collaborando cosa cos'è senti la musica come al solito è tipo un remix tra tra quella del gioco magari è quella di battle cats e quella mi sembrano abbastanza tostini e sinceramente se proprio devo dire tra l'altro non so se avete visto i miei soldi ma ho speso praticamente tutta l'esperienza per per potenziare delle robe poi vi faccio vedere anche cosa ho fatto perché ho speso letteralmente tutti i soldi che c'avevo purple cat fruit seed più 5 è buono cioè non è male 5 5 semi del di quel fruit non è più non è più possibile fare ok 30 minuti di cooldown per fare il livello 2 ma che palle cioè sono 20 livelli da fare ma quanto ci metto comunque vedete qua praticamente ho portato al 40 il il cat machine come ho fatto a portare al 40 il cat machine semplicemente quando portate al al 30 un una truppa adesso non so vi vorrei far vedere facciamo tipo un casagizzo no quando la portate al 30 non potete più a pregredarla a meno che non avete queste palline fate tipo level cap up e vi consuma una pallina e poi la potete sbloccare dovete pagare ovviamente l'esperienza per per portarlo di livello come avete visto ci sono diversi tipi di palline e sono una per quelle uber rare e una per quelle super una per le rare e una per oltretutto ho visto che ci sono un sacco di truppe da sbloccare perché nelle missioni mi richiedono delle truppe da evolvere che sono parte della collaborazione di cui devo andarmi a informare perché non so c'è tipo takuya yuki awaken che cacchio è? oh mio dio è arrivato uno con lo scooter ma che cacchio è? ma cos'è? raga cosa sto vedendo? cos'è quell'uomo? io l'ho già visto quel personaggio è quello che porta le pizze su radical bikers e quel gioco per la play 1 e costano un bordello di esperienza oltretutto cioè mi consumano a parte che ho farmato un sacco di leaderboards credo che sia meno così no leader flag quella roba che ti ricarica la vita in sostanza ne ho veramente tante non riesco mai ad utilizzarle perché diciamo che di solito uso l'energia che ho e poi spengo quindi non riesco mai a ricaricare di nuovo l'energia della vita per fare altri livelli e mo perché è partita la musica di dio cos'è? no ragazzi non parlo di quello di jojo c'era un tizio l'ho visto giuro era coi capelli rossi guardalo guardalo è karma è karma di assassination classroom ma chi è che lo evoca la bambina? è lei è lei c'è sta bambina che lo evoca no non capisco di che gioco stiamo parlando ah ho finito comunque prima c'era una che era appoggiata su una carta da gioco adesso c'è questa qua che evoca personaggi di anime che non c'entrano niente vabbè time and score stage get cool rewards ah vabbè ok si di solito questi qua ti danno un sacco di esperienza ok costano comunque un sacco di energia io adesso al massimo posso ottenere 600 di energia tipo se i livelli mi costano 150 ne faccio pochi la mia domanda è c'è un modo per ampliare l'energia? cioè tipo almeno è più di 600? perché in teoria si può io non sono partito che avevo 600 io ne avevo molte di meno all'inizio il fatto è come cacchio ho fatto ad aumentarla che non mi ricordo oh mio dio cioè adesso è oscura è crazed il problema è che è crazed anche è crazed anche karma ma che cos'è? hanno messo le forme crazed anche di questi personaggi? i va bene 250 questi ci sta eh per carità almeno uso queste flag queste bandiere che mi ricaricano per giusto per il video perché sennò probabilmente non li userei mai ci sono gli zombie tra l'altro dato che ci sono i livelli degli zombie nella modalità normale anche non ho visto in quella degli alieni non ne ho idea però comunque ci sono dei livelli degli zombie quelli li faremo in futuro il fatto è che adesso abbiamo da concentrarci con gli alieni quindi dobbiamo trovare potenziare truppe per gli alieni poi potenzieremo anche quelle per combattere gli zombie e andremo a far solo loro eh questo è tostino però eh perché ci sono gli zombie che si rigenerano e mi danno pochissima pochissima esperienza pochissimi soldi finché non facciamo breccia arriviamo direttamente sulla base si vabbè 300 rimettono sta musica va bene ok se posso dire non è allo stesso livello di quell'altra che c'era nello scorso evento quello con i vocalite però è carino ci sta oltretutto questo dovrebbe essere più difficile ma non ci sono gli zombie quindi io ho la truppa antibianco senti la musica come sale di epicità è bellissima aspetta ma sono tre bambine lì in mezzo ma che cacchio ma quante se muore coso qua questo qua nero è finita due sono morte a posto ok è fatto permesso permesso big big ok era l'ultimo livello possiamo andare a quello da time head score anche questo questi livelli time head score sono un buon metodo per fare un sacco di esperienza perché se riuscite a farli in tempo vi danno un sacco di punti extra e potete potenziare le truppe altrimenti ci sono i soliti livelli gialli che vi danno anche quelli un sacco di esperienza e li potete fare man mano che avanzate con le truppe e sono ritornate le bambine ok però stavolta almeno c'è la musica nuova è già finita e mi hanno finito di nuovo posso vedere la pubblicità che sono le uova crude e che cacchio di gioco è però ci ha dato la forza il cervello ci ha dato la forza questo vuol dire che dobbiamo usare il cervello anche se sti livelli sinceramente sono molto facili basta andarci con truppe forti siamo tipo over livellati per sto gioco ormai scusa rettifico per questi livelli non per gli altri livelli è tornato il tizio in scooter oh in tre sono ma cos'è tipo uber non lo so stanno portando le pizza qualcuno l'unico è questo qua che devi aspettare mezz'ora perché sennò tre livelli a botta sono finite già deliverymentacuia e se no allora vedi che porta le pizze questo che cacchio di gioco è che c'hanno il tizio che porta le pizze e le bambine che evocano persone da altre dimensioni permesso 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 buttate giù grazie mi mettono le truppe basi cioè mi mettono i personaggi che trovo nel primo livello a drop reward mi ha dato qualcosa mi ha dato mi sa una tizia dove sono i gorilla con le parrucche dai io quelli voglio io voglio vedere i gorilla con le parrucche da zunemiku oppure un ippopotamo che guida il motorino mentre porta le pizze non lo so un qualcosa del genere dai forza il bassotto anche il bassotto che guida il portapizze guarda guarda come frutta guarda come frutta ora la stira lei è inquietantissimo comunque mentre vola così o un altro ne arriva guardali guardali ne arrivano alla base la distruggono cioè nel momento in cui tocca la base è morta non fanno uscire niente lost insane ok questo dovrebbe essere complicato non so se l'insane è il livello prima del deadly che il deadly non ho mai fatto un livello deadly ancora ne abbiamo già fatti diversi di insane ma non mi ricordo la gerarchia come sta messa sta di fatto mi raccomando eh concentrazione che mo lo so che appena tocca la base arriva qualcuno per forza deve arrivare qualcuno una bambina oh ok mi ha mandato il coso lì nonostante abbiamo già visto pure lui però vabbè magari messo in combo con qualcun altro potrebbe essere forte il fatto di questo gioco è che non sono tanto le truppe in sé che sono devastanti anche quelle perché molte rompono veramente tanto il problema è quando le metti insieme ad altre truppe che sono devastanti e fanno delle combo che ti scassano e lì va usato un minimo di strategia non è che puoi andare sempre a casa a buttarti in battaglia si parlo con te tu non capisci niente zitta questo pezzo epico di musica mi piace questo ci può stare l'altro un po' meno questo è bello che truppa viene sbloccato di bello ma che cacchio ma cos'è è il portapizze no portalo al 10 che si evolve almeno ah tako e yuki e ncat giustamente purtroppo ragazzi tocca evolverli perché cacchio vi danno 10 cat cose cat food vi danno il cibo è buono e che fai te ne privi tra l'altro bellissimo perché da due che sono sul motorino passa cioè ci aggrappa anche il gatto danni contro i volanti io sinceramente non ho mai capito queste truppe degli eventi se sono veramente forti contro magari truppe volanti o quello che è o conviene sempre usare quelle normali di truppe no già che ci siamo per concludere si è sbloccato il secondo livello tanto siamo qua da più di mezz'ora se c'è da aspettare mezz'ora ogni volta il fatto è che qua almeno ci sono dei nemici diversi prima era apparsa la tizia con la carta sotto era carina quella esatto lei parlo di lei ma non c'entra poi niente con il pizzaiolo cioè quello che porta le pizze che collegamento c'hanno tra di loro anche se di questo mondo ci sono 20 livelli e già qua è abbastanza tosta lei resiste un sacco non credo riuscirò nemmeno ad arrivarci al ventesimo livello se già è forte così permesso 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 prendete la base grazie e si porta a casa red fruit più 5 e ma cacchio ma raga ma questi sono dei drop buoni il fatto che vi diano dei semi dei cut fruit sono buoni e bisogna aspettare un'altra mezz'ora va bene ragazzi io penso che possiamo terminare qua perdonate ancora una volta il fatto che questi video riescano raramente il problema è che abbiamo uno che non fa un cacchio nella vita e se ne sta fermo lì io che farmo di continuo però non posso andare avanti perché quell'altro mi dice eh no non puoi fare le cose perché sennò poi mi arrabbio io non parla così no tu parli così invece quindi gli episodi per ora lasciate passare ancora questa situazione tutto anche se adesso si può uscire te ne puoi andare lasciate finire questa situazione poi riprenderemo con le battaglie vere per il momento ragazzi penso che possiamo terminare quell'episodio noi ci rivediamo ad un prossimo video sempre su Battle Cats qui dall'Anulf è tutto ciao a tutti grazie a tutti